Come Giunta abbiamo voluto fortemente incontrare sin da subito il Consiglio dei Bambini e delle Bambine. Fanno Città delle Bambine e dei Bambini, deve essere tutto l'anno, per questo è importante instaurare un percorso insieme a loro per la quale bisogna condividere insieme tutto lo sviluppo della nostra città. La delega che ho affidato al Vice Sindaco, insieme all'urbanistica, quindi allo sviluppo della città, punta proprio a far sì che il Consiglio dei Bambini e la Città dei Bambini e delle Bambine diventi appunto il punto principale da cui partire per lo sviluppo della nostra città. Oggi sono emerse tante idee e proposte interessanti che dovremo approfondire come Giunta, per la quale dovranno essere portate azioni concrete perché i bambini chiedono tante cose. Una delle questioni più importanti che sono state portate avanti, ad esempio quella legata alle piste ciclabili, quindi a una città più sicura, più vivibile, ma anche una città ad esempio più attenta alle loro esigenze, quindi a partire appunto dai giochi, quindi dai giochi nei vari quartieri, quindi tutto il tema dei parchi giochi. Sono state toccate anche tante altre tematiche, come ad esempio il tema delle mense scolastiche, sulla quale dovremmo fare un focus. Sono emerse anche tante altre piccole situazioni di quartiere, ma dove appunto la priorità per i bambini è la sicurezza stradale, quindi dovremo fare di tutto affinché da qui a un anno vengano prese delle scelte importanti in tema di viabilità.